C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno perché siamo comunque nella top 10 mondiale, ma c'è anche chi sottolinea il grande lavoro ancora da fare per arrivare ai livelli dei primi della classe. L'Italia, secondo la classifica biennale del World Economic Forum resta all'ottavo posto, lo stesso di due anni fa. In questo rapporto vengono confrontati ogni due anni 140 paesi sulla base dei fattori e delle politiche che permettono lo sviluppo sostenibile del settore travel and dump, tourism. La sfida dell'Italia, migliorare il livello medio delle strutture turistiche e il settore del turismo, che vale circa il 10% del PIL italiano, rimane più sostenibile in Spagna, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti, Inghilterra e Australia. Tutti paesi molto legati a uno sviluppo attento al territorio e alla natura per vocazione, in questo momento più avanti di noi in termini di strutture ricettive, mobilità sostenibile e piste ciclabili, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti. Pulizia delle spiagge e dei mari, fondi per musei e scavi archeologici. Tutte aree di miglioramento che il mondo della politica e della pubblica amministrazione dovrebbero avere bene in mente per farci fare il salto di qualità. Fondi europei per il turismo sostenibile Il programma europeo COSM è stato lanciato con l'obiettivo di incrementare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE sui mercati, incoraggiare una cultura imprenditoriale e promuovere la creazione e la crescita delle PMI. Il bando 2019 che scade a ottobre prevede 5 milioni di euro per diverse aree di sviluppo come il trasferimento di competenze e conoscenze. Per PMI e Startup, servizi di incubazione e accelerazione di PMI del comparto turistico e il sostegno finanziario per le PMI. Un supporto anche per evitare che il numero sempre crescente di turisti danneggi le città d'arte e le aree balneari, non del tutto pronte ad accoglierli. Da Siracusa a Como è allarme per la perdita della propria identità La provocazione a Siracusa è arrivata dal Comitato Ortigia Sostenibile, che ha presentato un documento per togliere la città siciliana dalla lista dei siti patrimoni dell'umanità dell'UNESCO e inserirla nell'elenco dei 54 siti in pericolo, come la città vecchia di Gerusalemme o Palmira per esempio. Il degrado urbanistico e ambientale è eccessivo secondo il Comitato, che si augura di liberare la parte più antica di Siracusa, chiamata appunto Ortigia, dal turismo mordi e fuggi e di accogliere visitatori più attenti, responsabili e rispettosi senza perdere la propria identità. Dalla parte opposta dello stivale i problemi sono per un certo verso simili, come hanno osservato diversi esperti di turismo, a Como. La convivenza tra abitanti e turisti sta diventando difficile, tanto che si rischia di trasformare i valori della città per omologarli alle richieste dei visitatori, trasformando l'area vicino al lago in una casa vacanza a cielo aperto. Quindi ben venga il turismo sostenibile e responsabile, ma senza sacrificare la propria identità e la propria cultura. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6. B. Rue du Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. PICT non ha acquisito i diritti o servizio offerto o servizio offerto o servizio offerto o servizio offerto. PICT non ha acquisito i diritti o servizio offerto o servizio offerto.